iniziare. Allora, innanzitutto ci sono domande generali su il corso, quanto visto finora. Se non ci sono domande specifiche, io vi riepilogo velocemente il contenuto dell'ultima lezione, quindi andando a enfatizzare quelli che sono gli aspetti principali e poi dopo, se ci sono domande su questa parte, cerco di rispondere. Microfono più alto, va bene, le prossime volte cerco di aumentare il volume. Di solito l'ho tenuto basso per non saturare il microfono, ma se il risultato è basso, lo alzo senza problemi. Allora, due parole veloci per riepilogare i punti principali sulla parte relativa alle misure. Qual è l'aspetto importante che vogliamo andare a enfatizzare? Sostanzialmente il fatto che quando io faccio delle misure, che poi sono importanti perché sono i dati che io vado ad utilizzare per una qualunque visualizzazione, ma attenzione, le misure sono importanti perché praticamente qualunque operazione che noi facciamo con i numeri è l'esito di una qualche misura, quindi capire bene come funzionano è importantissimo. Quindi è un processo empirico che dovrebbe essere il più oggettivo possibile, cioè ripetibile e descritto chiaramente in modo che possa essere valutato da chi usa le misure, che assegna dei valori a delle entità, cercando di andare a caratterizzare attributi di queste entità. Lo schema che vi ho mostrato nella lezione e che riepiloga un po' i vari concetti è quello che vediamo qua. Sostanzialmente partiamo da un'esigenza informativa, capriamo quali sono i costrutti, che sono i concetti di alto livello che vogliamo andare a esprimere, possono essere utili per rispondere a questa esigenza e identifichiamo quelle che sono le entità. Io qui ne ho disegnata una, ma potrebbero essere anche molti, e i loro attributi. A partire da questa definizione io posso andare a misurare le entità per caratterizzare un suo attributo e questo lo faccio attraverso un metodo di misurazione. Una volta che ho più misure posso andare a aggregarle assieme per andare a a costruire delle misure derivate. La misura di per sé non è particolarmente significativa perché è un numero o un insieme di numeri per essere capita, usata, interpretata, ha bisogno di un qualche contesto o un modello di riferimento che è quello che sostanzialmente ci permette di andare a costruire un indicatore. Indicatore che poi descrive quello che è un costrutto misurabile e opportunamente presentato concorre a formare quello che è un prodotto informativo, prodotto informativo che dovrebbe essere l'elemento che poi è in grado di rispondere alle esigenze informative. Abbiamo visto che c'è tutta una teoria della misura. L'idea fondamentale è che io parto da un sistema empirico in cui esistono delle entità e delle relazioni tra queste entità e il mio obiettivo è quello di andare a associare a ciascuna di queste entità o meglio agli attributi di queste entità dei valori, facendo in modo che le relazioni che io posso osservare nel sistema empirico restino sostanzialmente tale e quali anche nel mio sistema formale. Per cui nel caso specifico abbiamo Fred e Joe, io osservo nel mio sistema empirico che Joe è più alto di Fred e quindi ho un sistema di misura che associa il numero 180 a Joe e il numero 172 a Fred e scopro che nel mio sistema formale la misura di Joe e la misura di Fred sono legati da questa relazione di maggiore e questa relazione di maggiore sostanzialmente è la corrispondente della relazione empirica e più alto di. Quindi qualunque sistema di misura deve andare a fare questa operazione di mapping cercando di preservare tutte le relazioni che sono presenti nel sistema empirico. Quanto più sono complesse le relazioni che io ho presenti nel sistema empirico, tanto più raffinato e articolato deve essere il tipo di misura. I tipi di misura sono identificati da una serie di scale. Diciamo che la teoria della misura moderna sostanzialmente identifica questi cinque livelli di scale, le scale nominali, ordinali, intervallo, rapporto e assolute, dove ogni tipo di scala è in grado di andare a rappresentare delle relazioni empiriche via via più complesse. Partiamo dalla scala nominale in cui le relazioni empiriche rappresentate sono sostanzialmente quelle di andare a classificare. La scala ordinale in cui io riesco non solo a classificare ma riesco anche a dare un ordine agli elementi che ho a disposizione. Tenete presente che questi tipi di misure sono molto frequenti. Andate a pensare semplicemente a quando vengono fatti dei questionari di gradimento. I questionari di gradimento sostanzialmente sfruttano una scala di tipo ordinale. Dato un'affermazione, che so, il sistema di virtual terassum del Politecnico ha funzionato bene, sono assolutamente in disaccordo, abbastanza in disaccordo, indeciso, d'accordo, completamente d'accordo, questa è una scala che è chiaramente una scala ordinale. Non ho una comprensione più fine del fenomeno, riesco semplicemente a capire quanto uno è più d'accordo dell'altro. Abbiamo poi la scala intervallo in cui la distanza tra un livello, tra un valore e l'altro, è ben definita. L'esempio tipico della scala ordinale, della scala di intervallo, scusate, sono le misure, le misure di temperatura, dove, come succede spesso nelle scale ordinali, abbiamo uno zero di riferimento che è puramente formale, è una convenzione. Lo zero della scala Celsius piuttosto che lo zero della scala Fahrenheit sono puramente convenzionali. Per cui io posso misurare le temperature in un modo o nell'altro, entrambi sono validi, però l'idea è che quando io ho due coppie di temperature, se le loro differenze sono uguali, saranno uguali in qualunque scala io le vado a misurare. Poi abbiamo la scala ratio in cui effettivamente abbiamo la possibilità di andare a esprimere dei rapporti, perché in una scala di questo tipo il fenomeno che io osservo ha un concetto di zero, zero effettivo, che io posso andare a considerare come assoluto all'interno del mio fenomeno. Immaginate la lunghezza, la lunghezza ha uno zero chiaro e ben definito, in qualunque modo io vada a misurarla, perché la misura in centimetri in pollici lo zero è sempre uno zero. E poi abbiamo la scala assoluta, che è l'ultima, che sostanzialmente è quella che permette di andare a misurare una quantità, numero di oggetti, numero di eventi in un intervallo di tempo, eccetera. La caratteristica di tutte le scale, tranne quella assoluta, è che io posso identificare tante diverse scale alternative, tante diverse misure alternative che obbediscono a quel tipo di scala. E posso passare da una all'altra con una trasformazione che è più o meno articolata. Domanda, aspettate che leggo tutto. Allora, la scala Kelvin è complicata la domanda. In realtà le scale di temperatura sono scale e chiaramente di tipo intervallo. La scala Kelvin è una scala particolare perché assegna, lega la temperatura alla quantità di moto molecolare e quindi è un po' particolare. Nella scala Kelvin effettivamente c'è uno zero assoluto, sì. Quindi, a rigore, quella è una scala di tipo razio. Quindi ha senso dire che una temperatura è il doppio dell'altra. Però nel momento in cui noi ci relazioniamo al concetto di temperatura che conosciamo normalmente, in cui abbiamo la temperatura, almeno in Europa, a Celsius, quelle sono scale ovviamente di tipo intervallo. Altro tipo di scala intervallo sono gli istanti di tempo, le date. Anche lì io ho un riferimento puramente convenzionale. Quindi nel nostro calendario abbiamo l'anno zero, nel calendario cinese o quell'altro coreano ci sono degli zeri che sono diversi perché sono puramente convenzionali. Allora, la domanda è se l'insieme in cui faccio il mapping, ovvero quello che sta nel sistema formale, deve essere per forza un insieme numerico? No. Sostanzialmente la definizione, non vi ho fatto vedere qui, ma l'ho fatta vedere nella lezione completa, sostanzialmente io ho bisogno di avere una relazione. E una relazione io la posso definire su un qualunque tipo di insieme, non necessariamente numerico. Per cui, soprattutto sulle scale nominali e ordinali, le misure io posso anche raccoglierle in un sistema formale in cui i valori sono delle lettere o delle parole. Quindi non necessariamente ho questa esigenza. Le scale di tipo intervallo e ratio, in cui io devo poter fare somme e rapporti, invece richiedono un insieme numerico. Ma su quelle nominali e ordinali questo non è necessariamente vero. A volte lo si fa per comodità, quindi si usano i numeri, ma nulla mi vieta. Allora, c'era un esempio, mi pare, poco dopo. Questo. Se io ho una persona, voglio andare a caratterizzare la sua origine in termini di italiano, europeo, estereuropeo, una possibile codifica è 1, 2, 3. Per italiano, europeo ed estereuropeo. Però ovviamente potrebbero anche essere altri numeri, 101, 3,1, 5, oppure delle lettere, I, E ed X. Quindi nulla vieta di avere questo tipo di codifica. Anzi, in alcuni casi vi confesso che è meglio avere una codifica di questo tipo, quindi lettere, perché così non abbiamo la tentazione di andare a fare somme, sottrazioni, divisioni, eccetera. La conseguenza del tipo di operazioni che io posso andare a fare è legata al tipo di relazioni che io ho a disposizione. Per cui quando ho delle scale diverse, posso andare a calcolare, ad esempio, la misura di tendenza centrale in vario modo in funzione del tipo di scala. Per cui su una scala nominale, visto che le operazioni che faccio devono essere applicabili a qualunque delle scale alternative, l'unica cosa che posso fare è andare a calcolare la moda, cioè andare a calcolare qual è l'insieme più frequente. Per le scale ordinali io posso mettere in ordine e quindi posso andare a trovare l'elemento che sta in mezzo, e quello è la mediana. Dalla scala intervallo in su, in cui invece io posso ragionevolmente andare a fare somme o sottrazioni tra i valori che ho misurato, allora posso andare a calcolare la media, che è quella un po' più comoda. In generale ricordatevi che andare a calcolare la media su una scala ordinale non è così banale, anzi potrebbe portare a delle deduzioni, a delle conclusioni che sono sbagliate. Ieri, quando vi ho fatto la video-lezione, a un certo punto vi ho fatto una domanda. La domanda, ve la ripropongo adesso, è i vostri voti, in trentesimi, quelli che conseguite dando gli esami all'università, secondo voi su che scala sono misurati? Ok, razio, qualcuno, intervallo? Ok. Non ho fatto un sondaggio, avrei potuto farlo. Allora, ragioniamo in termini di proprietà a partire da quella che è la scala nominale. Tenete conto che io posso misurare un fenomeno che è intrinsecamente complesso, come una scala razio assoluta, anche usando delle scale più semplici. semplicemente non catturo tutta la complessità della relazione empirica. Allora, lo posso misurare ovviamente su una scala nominale, questo vuol dire che un voto è diverso dall'altro. Prendere trenta è diverso da prendere diciotto. E su questo, secondo me, siamo tutti d'accordo, non devo fare nessun sondaggio. E' ordinale? E' ordinale sì, nel senso che posso utilizzare una scala ordinale perché comunque i voti più alti sono meglio o comunque descrivono una preparazione migliore degli studenti rispetto ai voti bassi, quindi c'è un ordine. Trenta significa che la preparazione di uno studente è migliore rispetto alla preparazione di uno studente che ha preso diciotto. Intervallo. Intervallo vuol dire che io riesco andare a identificare e confrontare le distanze tra un voto e l'altro. A questo punto vi faccio una domanda. Allora, la domanda che io vedo adesso in chat, ovvero la differenza di abilità tra due persone 18-19 o 29-30, questa domanda non si applica alla scala ordinale. La scala ordinale mi dice semplicemente chi è meglio, chi è peggio. Quindi è un livello molto basso. non sono così raffinato da andare a fare questa domanda. Questa domanda invece è pertinente per la scala intervallo. Ovvero, la differenza tra chi prende 27 e chi prende 30 è la stessa differenza che c'è tra chi prende 24 e chi prende 27? Oppure, passando da 18-19, esattamente come la domanda in chat. Faccio la stessa differenza di preparazione nel passare da 29 a 30? Non lo so. Non è così non è così facile. Se immaginate una che so, una serie di quiz uno dopo l'altro che valgono tutti un punto quindi avete 30 quiz e ogni quiz risposto correttamente vi dà un punto probabilmente questo è vero se ogni quiz corrisponde a una difficoltà uguale a quella di qualunque altro. E quello che abbiamo non sono così sicuro. per cui c'è un grosso dubbio sul fatto che effettivamente ci sia quella differenza. Se il fenomeno che io sto cercando di descrivere non ha questa differenza o comunque io non sono in grado di descriverla significa che non posso utilizzare una scala ordinale scusate una scala intervalli. tanto per curiosità ho dei dubbi sulla scala intervallo quindi a maggior ragione anche sulla scala rapporto. La scala rapporto mi dice che chi prende 30 sostanzialmente è preparato il doppio di chi prende 15. questa è ancora più complicata oppure se andiamo a considerare i voti diciamo da esame superato la preparazione di chi prende 30 è il 50% più alta di chi prende 20 quindi non non è facile andare a fare questi questi calcoli per cui indicativamente volendo essere corretti la scala su cui vengono misurati i voti è una scala di tipo ordinale poi i voti vengono spesso convertiti in numeri perché è più facile ma se noi abbiamo una scala di tipo intervallo guardando la tabella che vediamo qua ha senso andare a calcolare la media probabilmente no la media la possiamo calcolare se effettivamente vale quella osservazione che è ancora lì l'ultima nella chat ovvero che la differenza chi tra prende 18 e 19 è la stessa differenza tra chi prende 29 e chi prende 30 altrimenti diciamo il risultato non è esattamente corretto allora la domanda è se i voti sono misure oggettive o soggettive allora questo è un altro problema ancora nel senso che ci complica se le misure non sono oggettive ma hanno un grado di soggettività l'attenibilità del risultato è ancora più complicata nel caso specifico lo 0 non significa 0 nel senso che se voi andate a prendere una serie di voti di persone che hanno studiato da 30 che hanno studiato da 20 che hanno studiato potenzialmente da 10 ma anche se il 10 non viene dato e andate a scendere probabilmente chi ha studiato da 0 non ha studiato veramente 0 cioè non ha aperto mai il libro oppure chi ha aperto il libro magari teoricamente prenderebbe un voto che è 10 12 quindi lo 0 numerico che noi abbiamo nella nostra scala non corrisponde allo 0 in termini di conoscenze o di competenze nella materia allora l'altra osservazione è che cosa vuol dire cioè abbiamo usato la parola preparazione perché ho cercato di glissare su un problema di fondo che cosa stiamo misurando con i voti è difficile potrebbe essere tra l'altro sì esami orari e scritti sono leggermente diversi però l'idea è stiamo misurando la preparazione di uno studente stiamo misurando qualcos'altro allora il concetto quindi quello che abbiamo chiamato costrutto potrebbe essere il livello di preparazione quindi di conoscenza dell'argomento esattamente il passaggio dal costrutto alla misura include sempre delle assunzioni o delle semplificazioni qualunque costrutto che non sia assolutamente banale non so l'altezza di una persona e anche lì comunque ci sono un po' di varianti è difficile da tradurre in una unica e sola misura quindi non esiste una semplice misura in grado di andare a descrivere un costrutto quindi se il nostro costrutto quindi il concetto base astratto che abbiamo in mente che tutti possono capire dobbiamo tradurlo in una misura e la misura che otteniamo alla fine è un voto però non è facile ci sono molti gradi di arbitrarietà quali aspetti vado a verificare in questo corso ci sono un paio di domande teoriche per il resto tutta la preparazione è sulla parte pratica se uno non studia niente della parte teorica ma riesce comunque a fare le operazioni che preparazione ha? già andare a costruire un tipo di esame mette una serie di vincoli una serie di assunzioni nella misura di quello che è un costrutto molto di alto livello ovviamente c'è il fatto che stiamo variando tra l'altra assunzione che c'era nel commento precedente in realtà stiamo misurando quanto uno studente è in grado di mostrare il proprio grado di preparazione da cui sugli scritti non tanto ma sugli orari uno studente emotivo potrebbe avere problemi a mostrare tutto sul grado di preparazione quindi di nuovo nel passaggio dal concetto astratto quindi il costrutto alla misura c'è una buona approssimazione in questo caso è nello strumento che noi usiamo per misurare l'orale piuttosto che lo scritto quanti quesiti è risolto correttamente potrebbe essere però di nuovo non è detto che i quesiti siano tutti uguali oppure se ci sono diversi esercizi il punteggio di un esercizio sostanzialmente è correlato in maniera proporzionale agli altri a quello che è il livello di preparazione necessario per svolgerlo correttamente c'è poi allora l'ultima osservazione è la legge di Goodhart ci arriviamo tra un attimo quando finisco la panoramica quindi la vostra questa piccola discussione diciamo in chat era per farvi ragionare sul fatto che ci sono un sacco di concetti astratti che per noi sono chiari quindi la preparazione la bravura chiamatela come volete la conoscenza della materia e quant'altro che in realtà noi siamo in grado di andare a caratterizzare in maniera non così precisa e ci sono un sacco di passaggi tra il costrutto e la misura che comunque aggiungono ulteriori gradi di approssimazione quindi tutte le volte che voi avete a che fare con una misura ragionate su quanto la misura effettivamente sia in grado di catturare quello che è il costrutto Allora domanda se io uso un esame molto granulare molto fine in cui vado a pesare ogni punto ogni virgola del mio del programma d'esame quindi alla fine ho tutto quello che ho detto nell'esame e lo vado a testare con una domanda e quindi tutte le domande sono più o meno uguali eccetera ecco in questo caso probabilmente potrei avere una scala di tipo intervallo sì forse addirittura ratio se lo zero come voto significa che la persona non sa nulla dell'esame vi faccio notare un altro aspetto mentre ci siamo il voto è dato dai docenti con l'obiettivo di andare a caratterizzare diciamo così la preparazione la conoscenza le competenze acquisite relativamente al programma d'esame molto spesso i voti vengono anche considerati che so dalle aziende in un concorso per le borse di studio eccetera come la bravura o il merito dello studente però attenzione è una cosa diversa andare a valutare il merito di uno studente e andare a valutare invece il grado di competenza per una o più materie il programma potrebbe essere assolutamente rilevante non interessante poco legato agli altri quindi il merito e la preparazione anche ammesso di studiare a misurare nel migliore dei modi possibili non sono esattamente la stessa cosa il fatto giustamente la domanda è il fatto che diciamo che è ordinale semplicemente sta a dimostrare o comunque è una conseguenza del fatto che io come docente ma sicuramente anche voi come studenti non siete assolutamente certi che in generale la differenza tra 18 e 19 sia la stessa che c'è tra 24 e 25 se quello fosse vero allora la nostra scala sarebbe una scala di tipo intervallo in generale non è detto che sia vero ok direi che questo esempio vedo che vi ha coinvolto abbastanza perché vi tocca da vicino probabilmente però è molto utile perché vi fa riflettere su un sacco di aspetti e tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto sui voti che ovviamente è qualcosa che noi conosciamo molto bene li possiamo fare tali e quali su tantissime altre misure allora la stima e la misura allora normalmente noi facciamo una misura la misura è comunque un qualcosa che è una procedura che è dato un'entità e una caratteristica quindi l'entità studente la caratteristica preparazione in un particolare esame XYZ viene associata a un valore quindi quella è effettivamente una misura il problema è piuttosto andare a garantire che quella misura corrisponda e descriva in maniera corretta la preparazione quindi la preparazione intesa come costrutto astratto non fare differenza tra stimabile e misurabile stimabile molto spesso ha delle implicazioni di una parte di soggettività se voi andate a prendere un esame scritto molto spesso o è giusto o è sbagliato e su quello c'è veramente poco da discutere sugli orali ovviamente c'è una componente di soggettività perché comunque la persona che mi fa la domanda deve andare a valutare quanto voi avete risposto bene quindi c'è una componente di soggettività allora abbiamo parlato anche di indicatori nella lezione che non so se spero che abbiate visto che è un po' più dettagliata l'indicatore è sostanzialmente una qualcosa di un po' più complesso di una semplice misura che può essere descritto seguendo questa struttura quindi questa è una struttura tipica una scheda con cui io potrei andare a descrivere gli indicatori che include il nome l'obiettivo l'obiettivo è fondamentale perché l'obiettivo è quello che mi guida i dettagli del meccanismo di misura e che soprattutto mi permette di interpretare in maniera corretta la mia misura la definizione quindi come calcolata l'unità di misura eventuale la scala il tipo di scala che quindi mi consente di andare a capire quali operazioni statistiche posso fare anche aritmetiche e il livello di aggregazione e poi l'interpretazione devo capire dato l'indicatore come lo interpreto quindi se immaginiamo il voto di un esame come un indicatore l'interpretazione solitamente è dal 18 in su la preparazione è considerata sufficiente accettabile più il voto è vicino a 30 meglio è un voto 30 sostanzialmente rappresenta la conoscenza completa del programma 30 l'ode potrebbe essere una conoscenza che va oltre quello che è la completezza del programma ad esempio denota una componente di impegno iniziativa personale che vanno oltre quanto presentato a lezione in realtà ogni docente usa una definizione leggermente diversa della lode in funzione del tipo di esame e poi la sorgente quindi come faccio a recuperare i dati che mi servono per andare a fare la misura l'indicatore è proprio una allora ne vedremo alcuni più avanti quando parleremo poi di misura della qualità l'indicatore allora la misura è sostanzialmente un valore l'indicatore mi descrive come la misura è raccolta quindi tutta questa parte che io qui ho chiamato metric definition mi descrive perché l'ho raccolta quindi qual è l'obiettivo e mi dice come interpretarlo nel voto non c'è scritto c'è scritto 27 30 di per sé quella è una misura se io invece vado a dire il voto è fatto per caratterizzare la preparazione qualunque cosa sia la preparazione in questo contesto non ci avventuriamo nell'andare a discutere l'interpretazione quindi il valore di 18 significa la sufficienza 30 vuol dire la conoscenza completa ecco queste note aggiuntive al voto sostanzialmente vanno a costruire quello che è un indicatore quindi è un contorno un contesto che mi permette di andare a interpretare il voto non so nelle nostre scuole noi abbiamo i voti da 1 a 10 nelle scuole americane magari ci sono i voti che vanno da A ad F per cui se ci mischiamo la A che cos'è? se non ho un contesto che mi permette di interpretarlo è difficile andare a comprenderlo allora nell'indicatore possono rientrare alcuni parametri statistici quando parlo di aggregazione posso andare a dire come li posso mettere assieme il fatto che io vada a dire qual è la scala già mi dice che operazioni effettivamente posso fare e eventualmente nell'indicatore posso andare ad aggregare i dati quindi potrei fare ad esempio una media di una serie di valori perché metto assieme tante misure che stanno alla base quindi potrebbe esserci anche una parte di aggregazione statistica noi tendenzialmente cerchiamo di ragionare in termini di misure tenete presente che gli indicatori mi danno il contesto il quadro per andare a interpretarli no allora la media non è l'indicatore la media potrebbe far parte della aggregazione che io uso per andare a costruire un indicatore l'indicatore non è semplicemente il valore che ottengo come una media ma tutto l'insieme di quello che vediamo qua quindi come devo andare a interpretare quella media la media potrebbe essere l'operazione che mi permette di passare dalle misure all'indicatore se io voglio un numero sintetico che mi descriva qualcosa concludo con alcuni principi in generale perché devo andare a misurare perché ciò che ho misurato è fatto senza la misura io non so se qualunque operazione che io voglio fare di miglioramento ha effetto e quindi devo per forza andare a misurare in qualche modo attenzione che la misura può avere degli effetti collaterali quindi vi riporto la legge di Goodhart che dice che quando una misura diventa un indicatore scusate quando una misura diventa un obiettivo cessa di essere una buona misura un esempio che vi cito è il seguente avete presente le prove invalsi le prove invalsi permettono di andare a descrivere quello che è il livello di preparazione in diversi campi quindi diciamo le conoscenze letterarie le conoscenze matematiche degli studenti in diversi paesi del mondo ora se io metto il risultato della prova invalsi come obiettivo cioè do il voto di maturità o il voto della licenza media in funzione del risultato della prova invalsi quello diventa un obiettivo gli studenti ma anche i docenti lavorano in quella direzione e questo vuol dire che buona parte del lavoro che io faccio all'interno del mio della mia classe è mirata a ottenere il massimo risultato possibile della prova invalsi trascurando ovviamente tutto quello che non è strettamente misurato dalla prova è come se io vi dicessi guardate che tutta questa parte che è descritta in questo insieme di slide che riguarda le misure non è oggetto d'esame se non è oggetto d'esame nessuno di voi la studia più di tanto magari qualcuno per curiosità la sfoglia ma altrimenti perché andare a leggerlo se l'obiettivo è un altro questo viene scartato il risultato è che alla fine una misura che andava a osservare alcune caratteristiche specifiche essendo l'obiettivo viene alterata quindi ottengo dei risultati più alti da chi si è preparato specificamente per quella prova non risultati più alti da chi in generale ha un insieme di conoscenze migliori per cui la misura invalsi è una buona descrizione di quello che avviene se non è un obiettivo se è un obiettivo cambia tutto il comportamento e qui entra in gioco la legge di prima nella slide precedente che è la legge di Campbell e che se io utilizzo una qualunque misura per andare a fare delle decisioni a livello sociale questa misura questo indicatore sarà soggetto a pressioni per essere corrotto in qualche modo e andrà a distorcere quello che vuole misurare in partenza vi citavo il reddito di cittadinanza in cui effettivamente se a me basta dichiarare di non essere di non lavorare di non avere un reddito per ottenerlo quella misura che io raccoglievo che so in base alla dichiarazione dei redditi risulta pesantemente distorta e quindi vado a prendere decisioni su una misura che magari inizialmente teoricamente poteva anche avere senso ma poi in pratica risulta distorta corrotta per cui in generale oltre ai discorsi che abbiamo fatto prima quindi sulla difficoltà di passare da un costrutto astratto a una misura concreta e pratica ha tutte le difficoltà di capire la scala e quindi quanto noi riusciamo a catturare una relazione empirica complessa in più c'è il fatto di come usiamo la misura perché se la misura viene utilizzata per prendere le decisioni il risultato di quelle decisioni può andare a influenzare l'esito e quindi influenzare i dati che verranno poi misurati successivamente quindi l'uso delle misure è un qualcosa che deve essere fatto con estrema attenzione soprattutto se è incluso in un ciclo di decisioni quindi questo era una piccola discussione e un riepilogo di quanto detto ieri relativamente alla teoria della misura direi che un po' di domande ci sono state oggi diciamo prima in chat soprattutto sui voti non so se avete qualche altra domanda o curiosità su questo argomento allora se non avete domande su questo inizierei a introdurvi un nuovo argomento che riguarda la percezione poi vi caricherò la video lezione completa di tutto l'argomento e inizieremo poi a discuterne lunedì prossimo ok prima di passare alla alla prossima al prossimo argomento che è quindi quello della percezione che è la base per il resto allora per le scale di misura diverse da quella salute è possibile allora cambiare i valori ho capito l'intenzione della domanda allora torno un attimo sul set di slide precedente così magari è un po' più chiaro allora vi condivido questa questa slide allora la scala ratio rapporto che è quella che istintivamente pensiamo di poter utilizzare sempre le lunghezze le quantità il denaro eccetera eccetera sono tutti misurati su su questo tipo di scala come faccio a misurare una lunghezza che è la cosa più semplice che può venirci in mente allora per quanto riguarda la lunghezza abbiamo detto che in un sistema empirico quindi io vado a prendere che so dei pezzi di spaghetto tirati fuori dal pacchetto e li posso confrontare l'uno con l'altro uno sarà più lungo dell'altro c'è anche il concetto di zero perché lo spaghetto che non esiste quindi più vado a ridurre lo spaghetto a un certo punto arriva una lunghezza che è zero quindi quella la posso misurare in maniera ovvia e non ambigua sia che la misurio con un dito con un pollice sia che prenda un centimetro basato sui appunto i centimetri oppure sui pollici o sui piedi o lo misuri a spanne tutte queste sono misure ragionevolmente corrette e ammissibili per la lunghezza cosa vuol dire che sono misure corrette e ammissibili vuol dire che presi due pezzi di spaghetto o qualunque cosa vogliate nel momento in cui li confrontate empiricamente quindi li guardate voi nella realtà e scoprite che uno è più lungo dell'altro la misura che ottenete nel sistema empirico vi dice la stessa cosa cioè la lunghezza di uno è maggiore della lunghezza dell'altro che voi le abbiate misurate a indici a pollici a centimetri o in qualunque altro modo questa relazione empirica viene trasportata pari pari nel sistema formale questo vuol dire che io posso passare da una relazione scusate da una misura all'altra senza alcun problema io posso convertire le misure da centimetri a pollici esiste un fattore di conversione molto semplice il fattore di conversione sostanzialmente mi porta ad avere una trasformazione di questo tipo quindi la misura prima quella nella nuova unità è uguale alla vecchia misura moltiplicata per un fattore a di scala e quindi tutte le misure sono sostanzialmente equivalenti io posso passare da una all'altra con una trasformazione di questo tipo e questo vale per qualunque misura sia raccolta utilizzando una scala di tipo rapporto è una trasformazione abbastanza limitata perché deve garantirmi che lo 0 resti quello ok io non posso mettere A M più B perché in quel caso lì lo 0 non sarebbe più lo stesso nelle due misure quindi il fatto che esiste lo 0 mi restringe il campo di possibili trasformazioni valide a semplicemente la moltiplicazione per un certo fattore di conversione se pensiamo a una scala leggermente più semplice quindi una scala di tipo intervallo no scusate questa è una scala ordinale una scala di tipo intervallo che è questa lo 0 è convenzionale e per cui per passare da una misura all'altra il tipo di trasformazione è quella che vediamo qua sotto moltiplico per un certo valore e posso sommare un altro valore che mi dà sostanzialmente l'offset l'esempio tipico è la trasformazione da la scala celsius alla scala fahrenheit e viceversa che è 4 noni più 5 o qualcosa di questo tipo non la ricordo mai però sostanzialmente è una trasformazione di quel tipo perché in più ho la variabilità di poter definire quello che è un riferimento quindi uno 0 convenzionale questo tipo di trasformazione è più ampia perché perché la complessità della relazione che io vado a descrivere la complessità della relazione empirica è più semplice quindi ho tanti modi diversi di andare a descrivere quindi quanto più la scala è sofisticata tanto meno riesco a trasformare quindi tanto meno saranno le possibili alternative misure quanto più invece la relazione empirica è semplice si dice una relazione povera tanto più io ho tante misure alternative e quindi la funzione di trasformazione che è quella che vediamo qua nel caso della scala di tipo intervallo è molto più ampia spero di aver un po' chiarito il ok perfetto allora vorrei spendere una mezz'oretta quindi ripeto come tutte le lezioni che faremo in diretta non utilizzeremo tutto il tempo anche perché diciamo che buona parte del tempo è già dedicato a vedere le lezioni pre-registrate quindi qui l'intenzione è di fare qualcosa di un po' più interattivo e magari riepilogare gli aspetti più significativi vorrei introdurvi velocemente quello che è il concetto di percezione e poi la descrizione sarà poi approfondita in una successiva lezione e ci torneremo ovviamente ancora nella lezione poi di lunedì prossimo allora quando noi parliamo di percezione facciamo riferimento al quello che è il primo gradino cioè quello che c'è qui in basso di quella che io ho chiamato la pipeline sequenza di visualizzazione ve la riepilogo velocemente quindi l'idea che parto dai dati cioè ne abbiamo parlato fino adesso delle misure e poi vado su una codifica che mi permette di andare a fare percepire quello che è almeno visivamente i dati che sono stati codificati il passo successivo è di andare a fare un ragionamento che mi permetta di fare un confronto e quindi capire cosa è più grande cosa è più piccolo e magari di quanto e il passo successivo è quello di comprensione quindi andare a capire che il fatto che una barra sia più lunga e quindi rappresenti un valore più grande di un altro significa che il reddito per una certa categoria aumenta da qui sostanzialmente ottengo della conoscenza conoscenza che poi può essere utilizzata per andare a prendere decisioni o comunque per conoscere meglio il fenomeno che stiamo descrivendo allora mi fermo un attimo c'è una domanda su Java allora Java non c'entra niente con questo corso in questo corso tratteremo JavaScript che condivide semplicemente il prefisso Java ma è un linguaggio abbastanza diverso inizieremo comunque tra direi due settimane a parlare del linguaggio e partiamo da zero quindi dalla sintassi di base e partiamo quindi come vi dicevo nella lezione introduttiva immagino che voi conosciate già il C non in maniera eccellente però sappiate programmare almeno degli algoritmi di base in C e quello sarà il punto di partenza per tutti quindi tornando alla nostra pipeline l'idea è che il primo passaggio è sfruttare la percezione umana per andare a codificare in maniera appropriata dei valori che sono memorizzati nei dati che vogliamo andare a descrivere o nelle misure che vogliamo andare a descrivere quindi il primo passo è parto da un dato o una misura se volete e la codifico in maniera visuale che cosa vuol dire codificare in maniera visuale vuol dire due cose primo decidere che elemento grafico geometrico voglio utilizzare posso utilizzare che so dei punti delle barre dei segmenti delle linee è una scelta che devo fare vedremo che in realtà ci sono dei criteri per fare queste scelte il secondo aspetto della codifica visuale è andare a scegliere una caratteristica un attributo di questo oggetto che mi rappresenti il valore che voglio codificare per cui se immaginiamo di avere come oggetto un segmento posso andare a scegliere la lunghezza del segmento come attributo del segmento che mi rappresenta il codice scusate il dato che voglio andare a rappresentare per cui se ho dei numeri reali posso dire che la lunghezza del segmento espressa in millimetri o in centimetri rappresenta il valore che voglio andare a rappresentare per cui se voglio rappresentare il valore 5 avrò un segmento lungo 5 centimetri quindi scelgo il tipo di oggetto e scelgo il suo attributo attenzione l'attributo potrebbe essere anche la posizione rispetto a un sistema di asse e di coordinate quindi ci sono tantissimi attributi anche il colore è un attributo prendiamo un esempio e vediamo come possiamo andare a codificarlo allora in questo esempio abbiamo una serie di candidati i voti che hanno ricevuto e la percentuale di voti sostanzialmente la percentuale è il numero di voti diviso il totale non sono dati inventati ma sono dati presi da recenti elezioni quindi abbiamo Sergio Alberto Giorgio e Walter che hanno ricevuto rispettivamente 197.000 140.000 53.000 e 2.000 voti come li rappresento una possibilità è quella di dire li rappresento come suggerivo prima con dei segmenti e che cosa uso come caratteristica la lunghezza del segmento per cui segmento e lunghezza sono i due parametri che ho scelto per andare a visualizzare questi valori quindi la lunghezza dei segmenti che vediamo qua sostanzialmente mi rappresenta i numeri che abbiamo visto prima io i segmenti li ho buttati lì a caso ok il primo passaggio è essenzialmente la codifica visuale il passaggio successivo è quello del ragionamento e quindi di andare a fare un minimo di analisi molto spesso anche a livello inconscio sui dati che ho visualizzato per fare il ragionamento devo sostanzialmente fare tre operazioni discriminare cioè distinguere un oggetto visuale dall'altro ok capire quali sono gli oggetti che ho in ballo confrontarli dove il confronto semplicemente si tratta consiste nel capire chi è più grande e chi è più piccolo nulla di più e poi il terzo step è quello di andare a fare una valutazione di dimensione relativa quindi andare a capire che un oggetto o meglio il dato che è rappresentato un oggetto è due volte tre volte una volta e mezzo 0,5 10% in più in meno di un altro quindi questi sono i tre passaggi che mi permettono di fare un ragionamento sui dati che ho visto ovviamente se i dati sono messi così ho un po' di difficoltà a fare già solo della discriminazione per cui innanzitutto devo andare a disporre questi oggetti in un modo che mi consenta di discriminarli più facilmente quindi ad esempio li separo un pochettino quindi passo 1 permettono posso andare a fare un po' di discriminazione dopo la discriminazione devo poter andare a fare un confronto ora i valori sono abbastanza diversi però il confronto io riesco a farlo molto più facilmente se i segmenti sono ad esempio tutti allineati su uno stesso riferimento e quindi se io allineo i miei segmenti su quella linea tratteggiata a questo punto il confronto cioè capire chi è più lungo chi rappresenta un valore più grande e chi rappresenta un valore più piccolo è decisamente più facile il terzo passo che io devo andare a facilitare nella mia disposizione degli elementi è il confronto e quindi relativo valutare la dimensione l'assessment quindi la valutazione delle dimensioni può essere fatto in maniera ancora più facile se io ordino questi elementi e quindi riesco a vedere che ad esempio questi ultimi due uno è sostanzialmente così a occhio i quattro terzi dell'altro o i cinque quarti ok quindi avere la capacità di andare a fare questo tipo di valutazione delle dimensioni è fondamentale quindi scegliere il tipo di codifica visuale mettere la disposizione che consenta la discriminazione garantire un confronto facile e agevolare quello che è la valutazione quantitativa sono dei passaggi che devono essere fondamentali in qualunque tipo di visualizzazione io ve li ho sostanzialmente fatti vedere uno per uno ma se andate a prendere un qualunque strumento di visualizzazione prendete excel che vi genera un grafico data una serie di dati ecco questi passi qua li fa in maniera automatica una volta che voi scegliete il tipo di diagramma diagramma barre automaticamente vi codifica la lunghezza usa le barre vi codifica la lunghezza vi allinea e quindi vi fornisce già un contesto e una serie di scelte di posizionamento che supportano queste attività allora la differenza tra confronto e assessment allora il confronto è capire chi è più grande e chi è più piccolo metterli in ordine diciamo così l'assessment è capire quanto uno è più grande dell'altro e sì effettivamente l'assessment quindi capire di quanto uno è più grande dell'altro è il passo immediatamente successivo prima capisco chi è più grande e poi capisco di quanto nella nostra pipeline avevamo in realtà un passo successivo quindi abbiamo la percezione e quindi riesco a vedere le lunghezze e gli oggetti la disposizione di questi mi permette di fare discriminazione confronto e valutazione e il passo successivo è il passo di comprensione che quindi mi permette di andare a comprendere che cosa il mio diagramma vuole andare a raccontare per cui possiamo avere diversi tipi di comprensioni e per andare nella direzione di diversi tipi di comprensione andrò a costruire i grafici in maniera leggermente diversa posso andare a vedere che so voglio andare a vedere la distribuzione di valori o di frequenza all'interno di una serie di categorie la variazione rispetto a un riferimento la correlazione il ranking quindi una graduatoria un rapporto parte e tutto l'evoluzione del tempo l'evoluzione dello spazio eccetera nel caso specifico ragionevolmente essendo una votazione quello che potenzialmente può essere utile è andare a mettere la graduatoria e quindi andare a vedere chi ha preso più voti chi ha vinto tra virgolette per cui tornando al punto di partenza ci ritroviamo i nostri segmenti la cui lunghezza codifica il numero di voti separati in modo che io li possa distinguere allineati in modo che possa fare un confronto e ordinati in modo che io possa facilmente andare a fare una valutazione della dimensione se l'obiettivo in questo caso è fare una graduatoria normalmente quello che voglio fare è evidenziare il primo quindi chi ha vinto le elezioni e lo voglio fare in tanti modi allora normalmente quantomeno per convenzioni sociali del mondo occidentale le cose più importanti stanno a sinistra e in alto il titolo di questa slide sta a sinistra in alto non per caso ma perché è quello il primo punto in cui uno guarda quando guarda lucido in altre culture le cose non sono così uguali ad esempio se voi sicuramente tra di voi qualcuno è appassionato di manga e i manga usano una convenzione diversa il tempo va al contrario io inizio a sfogliare da quella che per noi occidentali è l'ultima pagina però diciamo che noi tendenzialmente pensiamo a un pubblico che abbia una cultura analoga alla nostra quindi una cultura occidentale per cui quello che sta in alto tendenzialmente è più importante di quello che sta in basso per cui chi ha ricevuto più voti noi lo andiamo a piazzare in alto in più se vogliamo enfatizzare il fatto che quello è il candidato che ha ricevuto più voti lo enfatizziamo ulteriormente andando a metterlo di un colore diverso questo è un colore più saturo la linea è più spessa delle altre e quindi salta subito all'occhio chi è che ha vinto le elezioni gli altri sono più sottili e hanno un colore più tenue un grigio quindi il mio obiettivo era sostanzialmente se questo è la visualizzazione finale far comprendere chi ha vinto le elezioni e di quanto quindi chi ha vinto le elezioni qui lo vedo immediatamente quindi la parte di understanding quindi usa un confronto per poi andare a dare un messaggio finale chi ha vinto le elezioni in questo caso specifico in questo contesto ecco viene descritto in questo modo attenzione questa è una possibile scelta ovviamente nel momento in cui io vado a fare una visualizzazione devo fare tantissime scelte a partire dalle prime quindi come faccio la codifica come consento la parte di ragionamento e come consento poi l'understanding come vi dicevo prima molto spesso le attività di base quindi tutto quanto riguarda la codifica e il ragionamento molto spesso sono fatti in maniera automatica perché ci sono una serie di convenzioni già note da qualunque programma di visualizzazione una cosa che normalmente il programma di visualizzazione non è in grado di fare è quest'ultimo passaggio l'understanding perché in un grafico l'Excel di turno non sa che cosa vogliamo enfatizzare non sa qual è il messaggio che noi vogliamo trasmettere per cui il grafico per come viene generato da Excel non è fatto per l'understanding ovvero è fatto per un understanding a caso perché il messaggio che vogliamo trasmettere non è scritto dentro il foglio elettronico e quindi siamo noi che dobbiamo intervenire a quel punto prendendo il grafico di base andando a correggere in modo da enfatizzare quello che vogliamo enfatizzare oppure permettere la comprensione di un particolare aspetto dei dati che vogliamo andare a visualizzare ho sottolineato più volte che in una visualizzazione c'è sempre un obiettivo quindi noi dobbiamo avere un obiettivo un messaggio da trasmettere e l'ultima parte quella di understanding che vediamo qua realizzata è quella in cui diamo il nostro contributo personale e in cui nessun tool può darci un suggerimento magari può darci un suggerimento ma siamo noi che dobbiamo andare a prendere una decisione netta su qual è il messaggio che vogliamo trasmettere per cui è fondamentale che io sia in grado di capire tutta questa serie di passaggi per poter poi andare a visualizzare correttamente i miei dati i primi ripeto sono fatti quasi in automatico una volta che ho scelto il tipo di grafico da i tool gli ultimi sono qualcosa che io devo mettere in più e aggiungere io personalmente quindi a questo punto in questi tre passaggi percezione ragionamento e valutazione e understanding iniziamo a vederli uno per uno partendo dalla percezione quindi cercando di capire come noi possiamo andare a fare la codifica in modo da favorire la percezione vi do un piccolo spunto e poi ripeto nella video lezione che andrò a pubblicare riprendo l'argomento un po' più nel dettaglio come funziona la percezione umana nel caso più semplice c'è una parte diciamo così fisiologica che riguarda diciamo la fisica quindi la luce che colpisce direttamente l'occhio oppure viene riflessa da un oggetto l'organo sensoriale e poi c'è una parte più cognitiva di percezione vera e propria che viene svolta dall'organo percettivo che nel caso nostro umano è il cervello come funziona la percezione ci potremmo fare dieci corsi universitari ma ai fini di questo corso assumiamo un modello di descrizione della percezione estremamente semplificato allora in generale qualunque modello è semplificato questo ancora di più del solito in questo modello semplificato l'idea è che la percezione avvenga sfruttando tre diverse tipologie di memorie quella che si chiama iconica quella a breve termine e quella a lungo termine che cosa fanno queste tre tipi di memorie allora la memoria iconica è quella che sostanzialmente percepisce gli elementi base letti dai nostri occhi quindi le forme i colori i movimenti e quant'altro la memoria a breve termine è una memoria in cui il cervello va a immagazzinare un'interpretazione di questa percezione di base successivamente il cervello elabora tutti questi elementi fondamentali e li va a memorizzare in quella che si chiama memoria a lungo termine quindi quali sono le caratteristiche fondamentali la memoria iconica sostanzialmente è pre-attenzionale nel senso che noi non facciamo attenzione noi percepiamo con gli occhi e poi successivamente il nostro cervello che presta attenzione a alcuni aspetti più costo che altri la memoria iconica è un qualcosa di estremamente primitivo che è in grado di registrare soltanto un numero limitato di attributi la memoria a breve termine è anche quella che è chiamata memoria di lavoro ed è quella in cui il cervello sostanzialmente memorizza i pezzettini di informazione che si vengono chiamati molto spesso di chunks la caratteristica della memoria a breve termine oltre a essere a breve termine come suggerisce il nome per chi è appassionato dei film Disney e ha visto Nemo ecco pensate al pesciolino Dory che ha la memoria a breve termine che dopo pochi secondi dimentica tutto oltre a essere a breve termine ha anche una capacità limitata quindi può contenere pochi chunk di informazione quindi dopo poco poco tempo queste poche informazioni memorizzate scompaiono se in quel tempo il nostro cervello è riuscito a elaborare le informazioni e memorizzarle in quella a lungo termine allora ce lo ricordiamo moltemente ci siamo dimenticati i dettagli ora vi faccio un piccolo esperimento che è questo allora vi chiedo di guardare con attenzione questo questa immagine ok a questo punto continuate a osservare ve ne faccio vedere un'altra che è questa quali sono le differenze tra queste due immagini potete scrivere in chat se avete una qualche idea torno indietro qualcuno ha notato allora direi che questa è la prima volta negli ultimi sei o sette anni in cui qualcuno riesce a identificare la differenza adesso vi faccio vedere le due immagini in sequenza rapida guardate il motore dell'aereo che c'è e scompare se non sapete dove guardare è estremamente difficile identificare il cambiamento perché adesso poi voglio sapere se chi ha indovinato è un ingegnere aeronautico oppure appassionato di aerei perché normalmente uno guarda le persone la scaletta la coda dell'aereo il motore è tendenzialmente un qualcosa che non si nota qual è il trucco che vi impedisce di andare a vedere la differenza è che questa è la prima immagine io vi faccio vedere questo frame vuoto temporaneo lo lascio per qualche secondo due o tre secondi cioè il tempo giusto per lasciare che la vostra memoria a breve termine si svuoti e poi vi faccio vedere l'altra a questo punto il vostro cervello cosa ha fatto ha ricostruito la prima immagine i tratti essenziali cercando di descriverla ma sicuramente in quei tratti essenziali a meno che voi non abbiate interesse specifico per quella parte del motore quel dettaglio non è stato memorizzato nella memoria a lungo termine e quindi quando vedete la seconda immagine quel piccolo dettaglio ovviamente non essendo stato memorizzato impossibile da rivedere da confrontare questo è giusto per darvi un suggerimento di come quel modello della memoria a breve termine seppure sia molto lontano da come effettivamente nella fisiologia funziona il nostro cervello però è in grado di descrivere alcuni fenomeni ad esempio questo problema di attenzione perché essendo la nostra memoria a breve termine piccola e con durata limitata non ci permette di andare a osservare tutto e quindi ci porta a queste cecità selettive o cecità di attenzione che abbiamo visto in questo specifico esempio un'altra caratteristica conseguenza di questo modello è che spiega quella che è la regola del 7 più o meno 2 qualcuno di voi ha già sentito questa questa regola allora direi di no allora è difficile contare visivamente più di 7 oggetti quasi fuochino allora qual è la regola è una regola empirica ovviamente che si basa sul fatto che la memoria a breve termine indicativamente è in grado di contenere 7 più o meno 2 cioè da 5 a 9 elementari informazioni elementari quindi quindi se io vi presento una schermata con più di 9 informazioni presenti 9 frasi ad esempio è altamente improbabile che qualcuno di voi riesca con una sola occhiata a comprendere tutte le informazioni contenute questo vuol dire che non che non siete in grado di comprenderla ma che richiede molto più sforzo se dovete andare a spezzettare quello che state guardando e comprenderlo a pezzi e poi ricombinare tutto e quindi questo comporta molto più tempo e molta più fatica in generale in questa regola 7 più o meno 2 il suggerimento è quello di stare più possibile vicino all'estremo inferiore cioè 5 ed è il motivo per cui ad esempio quando uno fa una presentazione non dovrebbe eccedere 5 punti su ogni slide altrimenti la lettura della slide risulta molto più complicata e faticosa questa è la memoria a breve termine quindi l'idea è che io devo fare più passate metto un pezzo a breve termine lo rielaboro ne metto un altro pezzo e rielaboro anche quello e poi congiungo tutto e questo è per l'appunto un limite della memoria a breve termine poi comunque riesco a farlo nel senso che un pezzo per volta riesco a comprenderlo però faccio molta più fatica per cui la raccomandazione che normalmente si dà quando uno fa una presentazione è di non mettere troppi dettagli i concetti le informazioni elementari dovrebbero stare intorno a 7 5 quello è un range che ragionevolmente anche considerando la variabilità da soggetto a soggetto la difficoltà di leggere e quant'altro permette quantomeno di comprendere in maniera semplice i contenuti di una visualizzazione a questo punto qual è il nostro obiettivo allora il vostro obiettivo in questo momento è di andare a contare quanti sono i numeri 5 in questa schermata voi mi direte sono le 5 e mezza è faticoso è complicatissimo mi si intrecciano gli occhi e avete ragione così è più facile perché è più facile? perché i 5 sono stati enfatizzati hanno un colore diverso hanno una luminosità diversa rispetto agli altri e quindi è molto più facile per me andare a identificare quegli elementi che io devo contare e fare il conteggio ecco se volete questa è una sintesi di quello che noi dovremmo fare quando andiamo a fare una visualizzazione dobbiamo sfruttare al meglio gli attributi visuali qui abbiamo utilizzato gli attributi preattenzionali ovvero il colore e la luminosità sono due elementi che il nostro cervello e il nostro sistema di visione è in grado di catturare senza nessuna attenzione specifica nostra e quindi senza fare nessuna fatica noi identifichiamo già o comunque la prima fase del nostro sistema di percezione già identifica gli elementi che noi dobbiamo andare a contare quindi in generale l'obiettivo nell'andare a progettare una visualizzazione soprattutto nella fase iniziale quella di codifica è di sfruttare in maniera accurata e meditata quelli che sono gli attributi visuali soprattutto quelli preattenzionali in modo da agevolare la comprensione della visualizzazione ok sono 30 immagino che il tempo per contarli sarebbe stato molto più lungo se gli avessi lasciato l'altra schermata ok e magari gli errori di calcolo sarebbero stati diversi quindi l'obiettivo è capire meglio come funziona la parte di percezione quali sono gli attributi che possiamo utilizzare e soprattutto quali sono gli usi ideali degli attributi nel andare a codificare i valori di una misura io direi che per oggi ho parlato abbastanza resto ovviamente a disposizione ancora qualche minuto in caso di domande troverete il seguito di questo argomento cioè la parte di percezione pubblicato nei prossimi giorni e poi torneremo a discuterne lunedì prossimo domande curiosità e dubbi nei prossimi minuti la Avete ragione, mi sono dimenticato di mandarvi il messaggio su Slack della nuova video lezione, lo farò successivamente. Se vi iscrivete comunque al canale YouTube dovreste ricevere da lì la notifica, ma su Slack sicuramente lo faccio, quello e gli annunci. Sì, scusate, ma questa settimana come immagino facilmente comprendiate è stato un po' complicato, quindi cercherò sicuramente di pubblicare le lezioni con un adeguato anticipo di almeno un paio di giorni, in modo che voi abbiate tempo di trovare un istante per guardarle con calma. Allora, se nel caso dell'aereo avessimo messo un oggetto di colore totalmente fuori contesto, sì, effettivamente sarebbe stato più facile accorgersi della differenza, perché direttamente il nostro sistema percettivo avrebbe colto quella differenza. Sostanzialmente il sistema percettivo di base è quello che l'evoluzione ha costruito alcuni millenni fa, e quindi era quello che già negli animali, prima dell'essere umano, permettevano di identificare le prede se erano cacciatori, identificare i cacciatori se erano potenziali prede e quindi scappare. Quindi gli uomini primitivi avevano un sistema che era fatto in modo tale di identificare la tigra e le lente a sciavola in maniera veloce, immediata, e darsi alla fuga in fretta. Quindi noi abbiamo arreditato sostanzialmente quelle capacità, e quindi con quelle dobbiamo riuscire a fare la visualizzazione. Le interruzioni sul video YouTube, non so esattamente se ci sono delle interruzioni, in che senso. Stiamo parlando delle lezioni registrate queste, o quelle registrate a casa. Magari mandatemi un'e-mail con il dettaglio del minuto della lezione, così io vado a vedere e cerco di capire se effettivamente c'è un problema. Non dovrebbero esserci interruzioni particolari. Allora, l'ho detto un attimo prima, ma lo ripeto perché è utile, i cinque evidenziati nella slide sostanzialmente vanno a lavorare su quella che è la memoria iconica, su quello che è la nostra percezione pre-attenzionale. E quindi, avendo immediatamente evidenziato quelle differenze, poi è più facile trasferirle come blocchetti di informazione nella memoria a breve termine. Allora, sul portale della didattica ci sono solo poche lezioni, perché ci sono stati dei problemi nel caricare le video lezioni. Se voi andate sulla pagina del corso su Softanger, in alto, ve lo faccio vedere subito così, facciamo prima. Allora, questa è la pagina del corso. Qui in alto ci sono la pagina dello scorso anno. Se andate a vedere, ci sono tutte le video lezioni. dello scorso anno. Sostanzialmente il programma rispetto allo scorso anno non cambia particolarmente, quindi ragionevolmente resta quello dello scorso anno. se volete fare le domande col microfono. potete sicuramente farlo. Magari non mentre sto parlando io, però adesso sicuramente potete chiederlo. Quindi se vuoi posso... dovresti essere in grado di parlare direttamente? Allora, vi ho tolto il mutuo. non so se riuscite a parlare adesso. Mance? Allora, Raffaele, puoi provare a parlare? Intanto rispondo alla domanda precedente, off topic. Stiamo ricevendo un sacco di mail sugli esami. Ad esempio, io sono in ritardo sulla correzione degli esami degli ultimi appelli di febbraio. Quindi è stato abbastanza lungo. No, quindi non si sente, nel senso che dovreste attivare il microfono. Ok. Magari dovremmo fare qualche prova con il microfono. Però vi sento, professore? Adesso sì. Ah, ok, grazie. No, in realtà intendo che ando prima alla parola e poi facendo la domanda. Perché no? Certo, certo. Ma va bene. Solo per velocizzare l'interazione. Sì, io adesso provo a fare una operazione di... Perché quello che faccio normalmente è di mettervi tutti in muto, perché così qualcuno si dimentica il microfono, non è un problema. Io provo a mettere tutti in muto e provo un attimo a richiedere la parola adesso. Ecco, io ti ho messo in muto. Adesso riesci di nuovo a attivare il microfono e a parlare? Sì, dovrei averlo attivato. Sì, perfetto, ottimo. Prima se lo vediamo in chat, oppure lo chiediamo prima e poi lo attiviamo. Se mi scrivi in chat, io magari mi fermo un attimo, ti lascio parlare, così te o comunque chi vuole, e così riusciamo a fare... Esatto, sì, magari possiamo usare il pulsante per alzare la mano, così si vede immediatamente. Sì, già che ci siamo, possiamo fare una prova. Prova ad alzare una mano. Dovrebbe essere così. Sì, ok. Lo nota subito. Sì, cioè mi si apre la finestra in alto. Ok, magari possiamo fare così in modo da essere più veloce. Va bene, perfetto. Sì, perché parlando è più veloce per fare le domande. Il problema è che se le scrivete, io poi man mano le scorro. Diciamo che cerchiamo di limitarlo magari alla parte iniziale, in cui vi lascio proprio la parola. Se ci sono domande mentre spiego, magari scrivetele, poi, o me le rifate dopo, oppure se vi rispondo man mano, in modo che non ci siano poi la concentrazione di parole di persone che parlano. Ok, va bene, grazie mille. L'interazione su chat sicuramente va bene. Tenete conto che poi tutto questo viene registrato, quindi anche l'audio delle domande verrà registrato. Il vantaggio è che vederlo scritto forse è anche più comodo, però tendenzialmente dovrebbe funzionare. Cerchiamo. Chi vuole scrivere tendenzialmente può continuare a scrivere, se la domanda magari è un po' articolata e richiede di spiegarsi, potete chiedere la parola e va bene anche in quel modo sicuramente. Ok. Sulla lezione registrata non rimane la chat. In realtà io ho la trascrizione, però non so se ha molto senso, anche perché nella trascrizione non c'è l'audio della mia risposta. Quindi c'è la domanda, ma non c'è l'audio della risposta, quindi non sono sincronizzati. Ok. A questo punto direi che se non ci sono altre osservazioni o domande, vi saluto. Cerco di mettervi le video lezioni il prima possibile. Allora, in teoria potremmo anche sfruttare le video lezioni dell'anno scorso. La grossa differenza è che quelle lì sono molto più dilatate, perché in aula la dilatazione è più lunga e quindi tengono più tempo, ci sono delle pause molto più lunghe. Tendenzialmente giovedì faremo tre ore quando si tratterà di laboratori, però anche lì vediamo come funziona la casa, perché magari potrebbe esserci una mezz'ora di presentazione, di introduzione video e dopodiché il resto magari via chat o via chiamate dirette. Dobbiamo un attimo ragionare anche con i miei collaboratori per capire esattamente le modalità del laboratorio. Tendenzialmente non farei più di un'ora e mezza, come abbiamo fatto oggi. Perfetto, a questo punto direi che possiamo chiudere. Arrivederci, ci rivediamo presto e ci parliamo direttamente lunedì prossimo. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.